L'aumento dei casi ci deve sempre dare la responsabilità di un atteggiamento prudente ma senza però cadere nel panico perché si tratta di numeri che riguardano prevalentemente la fascia dei giovani e sono prevalentemente asintomatici. Però chiaramente in una fase in cui si si avvicina alle festività natalizie in cui ci sarà sicuramente una maggiore promiscuità all'interno anche delle case abbiamo ritenuto necessario dare un segnale così come è successo anche in altre città medio grandi in Italia di disporre l'obbligo delle mascherine nelle vie dove si presume che ci sia maggiore affollamento. Che sono queste vie? La zona dei pub e qui il centro storico? Sì prevalentemente il Corso della Repubblica, la via dei pub, poi ovviamente anche tutti i mercatini all'aperto dove già di per sé la prescrizione è già vigente cioè quello di indossare la mascherina nel momento in cui si ravvisano situazioni di potenziale assembramento. Però ecco ci è sembrato giusto dare questo segnale a partire dal 18 di dicembre e la prescrizione, l'ordinanza è valida fino al 6 gennaio salvo ulteriori possibili variazioni che non ci auguriamo cioè di un ulteriore incremento del numero dei contagi tale che ci costringe poi a disporre l'obbligo delle mascherine in tutte le situazioni all'aperto.